Senza un registro tumori aggiornato è impossibile parlare di aumento di neoplasie sul territorio, si farebbe solo allarmismo. È il punto di vista di Catello Califano, primario dell'Unco-Ematologia dell'Andrea Tortola di Pagani. Per il medico è invece necessario confrontarsi e impegnarsi per la tutela ambientale. È ingiustificato l'allarmismo che in un certo ambiente c'è maggiore incidenza di tumori. Questo è un dato che va certificato aggiornando il registro dei tumori. Quindi al momento questo è un dato ingiustificato. Concentriamoci sul vivere bene e migliorare meglio l'ambiente. Solo questo. Il medico interviene anche sull'evoluzione delle cure per debellare il cancro. Oggi i vari tipi di tumori si curano sempre di più senza chemioterapia ma con farmaci biologici. Quindi voglio dire soddisfazioni, avanzamenti e risultati se ne hanno. E quindi di tumore si guarisce, di tumore si vive a lungo rispetto ad una volta dove le medie di sopravvivenza e i risultati erano più insoddisfacenti. Risultati che si raggiungono anche grazie a strutture efficienti. Il polo oncologico vive infatti delle criticità legate alla carenza di personale e continuo bisogno di nuovi locali e apparecchiature. Qualcosa però sta cambiando in positivo. Tutti gli ospedali al momento viviamo delle deficienze di personale. Però a questo devo aggiungere che l'azienda, la dirigenza si sta impegnando a supportarci. Per cui l'altro giorno è arrivato un'infermiere ad integrare il nostro organico. Stamattina è arrivato un ausiliario. C'è la promessa di integrazione del personale medico. E' chiaro, è un momento di difficoltà per tutti i settori della sanità. Però vedo anche l'impegno di integrare quelle che sono le carenze.